Carlo Carretto Lettere dal deserto La chiamata di Dio è cosa misteriosa perché avviene nel buio della fede. In più essa ha una voce si tenue e si discreta che impegna tutto il silenzio interiore per essere captata. Eppure nulla è così decisivo e sconvolgente per un uomo sulla terra, nulla più sicuro e più forte. Tale chiamata è continua. Dio chiama sempre. Ma ci sono dei momenti caratteristici di questo appello divino, momenti che noi segniamo sul nostro taccuino e che non dimentichiamo più. Tre volte nella mia vita intesi questa chiamata. La prima determinò la mia conversione a 18 anni. Ero in un villaggio di campagna, maestro elementare. Venne in occasione della quaresima una missione per il popolo. Vi presi parte e di essa mi rimase il ricordo di una predicazione antiquata e noiosa. Posso dire che non furono certo le parole a scuotere il mio stato di indifferenza e di peccato, ma quando mi ginocchiai dinanzi a un vecchio missionario di cui ricordo gli occhi chiari e semplici per esporre la mia confessione, avverti nel silenzio dell'anima il passaggio di Dio. Da quel giorno mi sentii cristiano e constatai che la mia vita era cambiata. La seconda volta fu a 23 anni. Pensavo a sposarmi e nemmeno sapevo che poteva esistere qualche altra via per me. Incontrai un medico che mi parlò della chiesa e della bellezza di servirla con tutto il nostro essere, pur restando nel mondo. Non so che cosa avvenne in quei giorni e come avvenne. Il fatto si è che, pregando in una chiesa deserta dove ero entrato per sfogare il tumulto dei pensieri che agitavano la mia mente, sentii la stessa voce che avevo udito durante la confessione col vecchio missionario. Tu non ti sposerai. Tu mi offrirai la tua vita. Io sarò il tuo amore per sempre. Non fu difficile rinunciare al matrimonio e consacrarmi a Dio perché tutto era cambiato in me. A me sarebbe parso strano innamorarmi di una ragazza, tanto Dio riempiva la mia vita. Furono anni pieni di lavoro, di passioni, di incontri con anime, di grandi sogni. Gli stessi sbagli, e furono molti, erano dovuti alla violenza di ciò che bruciava dentro di me e che non era ancora purificato. Passarono molti anni e molte volte mi sorpresi in preghiera a domandare di risentire il suono di quella voce che tanta importanza aveva avuto per me. Fu a 44 anni che ciò avvenne e fu la chiamata più seria della mia vita, la chiamata alla vita contemplativa. Essa si determinò nel più profondo della fede, là dove il buio è assoluto e le forze umane non aiutano più. Questa volta dovevo dire di sì senza nulla capire. Lascia tutto e vieni con me nel deserto. Non voglio più la tua azione, voglio la tua preghiera, il tuo amore. Qualcuno, vedendomi partire per l'Africa, pensò ad una crisi di sconforto, di rinuncia. Nulla è più inesatto di ciò. Sono così ottimista per natura e ricco di speranza che non conosco ciò che sia lo sconforto o la rinuncia alla lotta. No, fu la chiamata decisiva. E mai la compresi come quella sera dei Vespri di San Carlo del 54, quando dissi di sì alla voce. Vieni con me nel deserto. C'è una cosa più grande della tua azione, la preghiera. C'è una forza più efficace della tua parola, l'amore. E andai nel deserto. Senza aver letto le costituzioni dei piccoli fratelli di Gesù, entrai nella loro congregazione. Senza conoscere Charles de Foucault, mi misi alla sua sequela. Mi bastava aver sentito la voce che mi aveva detto «Quella è la tua strada». Fu camminando coi piccoli fratelli sulle piste del deserto che scoprì la bontà della via. Fu seguendo il padre de Foucault che mi convinsi che proprio quella era la mia via. Ma Dio me l'aveva già detto nella fede. Quando giunsi ad El Abiod Sidi Seic per il noviziato, il mio maestro mi disse con la calma più perfetta di un uomo che aveva vissuto vent'anni nel deserto. Il Fouffer in copiure, Carlo. Devi darci un taglio. Io capii cosa voleva dire quella frase e decisi di fare il taglio, anche se doloroso. Avevo nella mia sacca conservato un grosso quaderno su cui erano annotati gli indirizzi dei miei vecchi amici. Ce n'erano migliaia. Il Signore, nella sua bontà, non mi aveva mai lasciato mancare la gioia dell'amicizia e su un vero fiume d'amore aveva navigato la barca della mia vita. Se restava in me una sofferenza nascosta era certamente quella di non poter, al momento della mia partenza per l'Africa, parlare a ciascheduno di loro, spiegare il motivo dell'abbandono, dire che obbedivo ad una chiamata chiara di Dio e che, anche se da un'altra trincea, avrei continuato a militare con loro nel campo dell'apostolato. Ma bisognava fare la famosa copiure ed io la feci con coraggio e con una grande fiducia in Dio. Presi l'indirizzario, che era per me come l'ultimo legame al passato, ed andai a bruciarlo dietro una duna durante una giornata di ritiro. Rivedo ancora i resti anneriti del quaderno trasportati lontano dal vento del Sahara. Ma bruciare un indirizzo non significa distruggere l'amicizia, né questo mi era richiesto. Anzi, mai ho amato e pregato tanto per i miei vecchi amici come nella solitudine del deserto. Ne rivedevo i volti, ne sentivo i problemi, le sofferenze acuite dalla distanza. Essi erano diventati per me come un gregge che mi sarebbe appartenuto per sempre e che io dovevo condurre con me ogni giorno alla fonte della preghiera. Quasi fisicamente li sentivo intorno a me quando entravo nella chiesa di stile arabo a El Abiod o più tardi negli eremitaggi famosi costruiti dallo stesso padre de Foucault a Tamanrasset, all'asse Krem. Pregare era diventato il mio maggiore impegno, la mia più dura fatica quotidiana e avevo capito per vocazione cosa significasse portare gli altri nella nostra preghiera. Ebbene, a distanza di anni posso dire di aver mantenuto il mio impegno, mentre se fatta sempre più chiara la certezza che a pregare non si perde il proprio tempo e che non esiste forma più adatta per aiutare coloro che amiamo. Rimane il problema dell'indirizzario che non posseggo più, ma questo non ha molta importanza perché esistono altri mezzi per raggiungere gli amici. Ecco, vorrei dare a loro l'appuntamento in uno dei tanti angoli meravigliosi del Sahara verso la Serag, al Calar del Sole e ritrovarci tutti come ci siamo trovati allora in quella sera famosa del settembre del 48 nella piazza di San Pietro. Ricordate? Qui non ci sarebbe bisogno di fiaccole, tanto il cielo è chiaro di stelle. Ci sederemo sulla sabbia e trascorreremo la notte a raccontarci la vita di questi anni, le tappe compiute, le prove subite. Penso che la stella del mattino ci troverebbe ancora a conversare. Per conto mio ho voluto annotare qui in queste lettere dal deserto le cose che direi se mi fosse dato una simile occasione e che rappresentano certamente una parte di me stesso. Niente di sistematico, niente di importante, alcune idee maturate nella solitudine gravitanti attorno ad un'attività che è stata senza alcun dubbio il più grande dono che mi ha fatto il Sahara pregare. Se ho fatto bene o male a scrivere lo direte voi, miei cari vecchi amici, ma sento che se non altro la cosa avrà servito a ripensare con esperienza nuova i problemi che sono stati alla base della nostra amicizia. Vostro piccolo fratello, Carlo Carretto.